Il lavoro del detective è un mestiere ingrato, ma qualcuno deve pur farlo. Però bisogna anche fare il bucato, portare fuori l'immondizia, sistemare la spesa, inviare la posta e dar da mangiare al pesce. Chiudere vecchi casi, riciclare barili, pulire gli attrezzi, mettere via la scala, portare fuori una cosa e poi un'altra. Come ho detto, è un mestiere davvero ingrato. Ho bisogno del vostro aiuto! La mia carriera è finita! Tutto il mio mondo mi sta crollando letteralmente addosso! Non riesco nemmeno a pensarci! Chiamate un'ambulanza! Qualcuno dovrebbe avvertire la stampa! Mi servono le vie! Scusate, ho fatto un disastro. Non si preoccupi, c'era già un gran disordine. Lasciate che ricominci, io sono Ops McJumpalot! Sì, ecco, io gioco a basket nella Bay City Boomer! Sono quello che fa canestro dalla metà campo! Ho capito! Siete tifosi di baseball? Dovete aiutarmi a ritrovare le mie scarpe fortunate! Da quando le ho perse non riesco più a mettere a segno il mio famoso tiro da metà campo! Se non riesco a fare il mio tiro non sarò più Ops McJumpalot! Sarò soltanto un canguro incompleto da basket! Diamo un'occhiata sotto alle panchine! Credo di averle viste qui l'ultima volta! Ehi, ehi, ehi! Time out! Sto per iniziare l'allenamento, non lo vedete? Ah, tranquillo, coach! Loro sono qui soltanto per aiutarmi a trovare le scarpe! Beh, l'unica cosa che i miei giocatori non trovano è il canestro! Non riescono a fare un canestro decente! Wow, gran bel tiro! Credo di aver trovato un nuovo giocatore! Aspetti, mi stavano aiutando a risolvere il mistero delle scarpe scomparse! Davvero? Beh, invece ora aiuteranno me a vincere una partita di basket! Iniziamo con esercizi di avvitamento! No, non quel tipo di avvitamento! Partiamo dalle basi! Il dribbling! Scusate, sapete, il nostro coach è un caso disperato! Diamo un'occhiata agli spogliatoi, ok? Due, quattro, sei, otto! Il campione fa filotto! Ops! Ops! Vai! Ops! Buongiorno, Toodles! Io e questi detective stiamo cercando le mie scarpe fortunate! Oh, sono due detective? Segui la pista! Cerca gli indizi, non fermarti e insisti! Non adesso, Toodles! Scarpe scomparse senza una traccia! Se non vinci il caso, perdi la faccia! Non si vincono i casi, Toodles! I casi si risolvono! Ma non importa, andiamo adesso! Niente lezioni, sono brava con le rime!